Si apre uno spiraglio per i 204 dipendenti padovani della Comdata, i cui posti di lavoro sono appesi ad un filo dopo la decisione dell'azienda di chiudere la sede veneta della società specializzata nell'assistenza a clienti e nell'esternalizzazione dei processi gestionali. Nell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, al quale erano presenti i rappresentanti dell'azienda e dei sindacati, i delegati del MISI hanno espresso contrarietà ai licenziamenti ed avanzato all'azienda la richiesta di un ripensamento. Il tavolo è stato riconvocato per metà mese.